Bene, bene, vediamo, vediamo quali sono gli errori che fai in amore, vediamo quali sono gli errori in amore, dov'è che sbaglia una donna in amore. Questo è un punto fondamentale perché se tu capisci dov'è che sbagli in amore riesci a mettere, come dire, i dovuti correttivi. Perché molte donne si lamentano che non riescono a trovare l'uomo giusto, si lamentano che non riescono a conquistare la persona giusta, ma l'errore lo fanno loro, questo purtroppo è un dato di fatto. Quando tu vai alla ricerca di un uomo, cioè vuoi trovare un uomo, ti basi sull'istinto, su quello che chiamiamo istinto, e ti lasci guidare dall'istinto, dal sesto senso, quello che viene chiamato sesto senso. Ma in realtà diciamo che quello che ti guida sono i tuoi turbamenti, sono il tuo imprinting. E allora se dentro di te c'è un imprinting, ad esempio, di vissuti di abbandono, di vissuti di rifiuto, di vissuti di disistima, proprio per questo motivo andrai a ricercare, purtroppo, fin tanto che non darai altro nutrimento emotivo, andrai a ricercare, purtroppo, persone che ti faranno vivere esattamente questo tipo di imprinting, quindi persone che ti abbandoneranno, persone che non saranno disponibili, persone che ti daranno disistima. E allora devi imparare un metodo, devi imparare un metodo per trovare l'uomo giusto, cioè trovare la persona che possa essere quella idonea per te, quella giusta per te. E come fare a trovare l'uomo giusto? Quali sono, qual è il metodo? Beh, il metodo è molto semplice, richiede però un po' di attenzione. di attenzione e devi farlo, devi trovarlo, quando non sei innamorata. Perché quando sei innamorata, ringrazio l'AC, quando sei innamorata non hai più possibilità di fare nulla, fondamentalmente. È un po' come dire, quando hai un ascesso in bocca, non è che puoi agire sul dente, devi prima far andare via l'ascesso. Quindi, questo lavoro, ringrazio Tai, questo lavoro, Rosa, questo lavoro puoi farlo soltanto nei momenti in cui non sei innamorata. Quindi ti suggerisco di farlo proprio quando non sei coinvolto, oppure se sei coinvolta devi mantenere veramente una fredda lucidità. Perché la scelta dell'uomo giusto va fatta a tavolino, va fatta a livello logico e razionale, non a livello emozionale. Cioè, tu devi fare, devi prendere un foglio di carta e fare una sorta di lista della spesa. Lista della spesa che sono due liste, diciamo, no? Una lista in cui tu scrivi tutto quello che tu vorresti da una relazione sentimentale affettiva. Ma proprio in termini pratici. Cioè, vorresti vivere con questa persona, vorresti vivere da sola, vorresti una relazione... Che tipo di relazione vorresti? Vorresti dei figli, vorresti un matrimonio. E' molto importante, diciamo, imparare esattamente, a scrivere esattamente qual è il tuo desiderato, che cosa desideri. Non che uomo vuoi incontrare, ma cosa desideri tu da una relazione sentimentale affettiva. E questo devi chiarirtelo, è fondamentale, perché come diceva Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Cioè, se tu non sai dove andare, se tu non sai che strada fare, difficilmente troverai la strada giusta. Quindi è molto importante imparare a trovare la strada giusta, imparare a trovare, diciamo, la via giusta per ottenere quello che tu vuoi. Dall'altra lista, diciamo, invece, sono le caratteristiche che deve avere un uomo per soddisfare la lista numero uno, cioè per soddisfare il tuo desiderata. Che caratteristiche deve avere un uomo per soddisfare quello che tu desideri? Ad esempio, se il tuo obiettivo, faccio un esempio stupido, nelle relazioni sentimentali affettive è comunque viaggiare, perché a te piace viaggiare, quindi vorresti fare tanti viaggi con una persona, beh, devi trovarti. Una delle caratteristiche dell'uomo che può soddisfare queste esigenze è quello che ami viaggiare. Perché, ad esempio, se trovi uno che invece non sopporta viaggiare, odia viaggiare, vuole stare sempre in casa, come sono io, ad esempio, per dire che una volta viaggiare adesso non ho proprio più voglia, cioè non va bene, questo è da tenere presente, no? Questo è un fatto fondamentale, ma questo è un esempio solo. Se tu vuoi, diciamo, mettere su famiglia e creare un tuo nucleo familiare, ad esempio, uno che è sposato non va bene, o uno che è impegnato non va bene, o uno che ha nella testa un'altra donna non va bene. Questo è fondamentale. Quindi, che caratteristiche deve avere? Se tu vuoi, se tu vuoi vivere una vita fedele, cioè in fedeltà, un'unione in fedeltà, è inutile che ti vai a cercare, è inutile che ti vai a cercare un libertino, perché un libertino non ti sarà mai fedele. Insomma, servono queste due liste. La prima è la tua lista di quello che desideri. La seconda lista sono le caratteristiche dell'uomo che può soddisfare il tuo desiderato. E poi diventa molto più semplice. Poi dopo, una volta che hai questo, devi imparare a scartare tutti quelli che non hanno le caratteristiche che tu hai elencato. È evidente che però, qual è che ti... cosa ti frega? Ti frega il fatto che magari tu vuoi, diciamo, ti innamori perché uno è bello, per dire. Eh, ma lui è bello, lui è bello, ma non ha quelle caratteristiche lì, devi scartarlo lo stesso. Sei affascinante, ma per dire, non ha quelle caratteristiche, devi scartarlo. Perché l'errore più grosso che fanno le donne è che si innamorano delle persone sbagliate. Perché non hanno chiaro come deve essere la persona giusta, che caratteristiche deve avere la persona giusta. Quindi questo lavoro, che ti potrà prendere un po' di tempo, però è fondamentale, è fondamentale per capire se una persona va bene o meno. E non ti devi innamorare. Eh, ma io mi sono innamorata, mi sono innamorata, anche se sposato, mi sono innamorata. Anche se sei libertino, mi sono innamorata, anche se sei figlio di mignotta, mi sono innamorata. Eh, purtroppo lì devi avere la capacità di gestire, di gestire le tue emozioni. Non devi lasciarti andare, innamorarti di chi ovviamente non ti dà quello che tu desideri. Questo è il punto fondamentale che ti suggerisco, questo lavoro ti suggerisco di farlo perché è veramente importante. Nel frattempo, ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai anche la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi su tutti i canali, su Instagram, su Facebook, su YouTube.